Poglia di Thomas Piero e Riccardo Este, si volta pagina, si parla di mercato nero-azzurro e iniziamo subito con le dichiarazioni di Marotta su un giocatore, eccolo qua, grazie a Reggio che prontamente ci manda la grafica, cabala alla Juve, noi non abbiamo proseguito il nostro interessamento su questo profilo per valutazioni interne nostre e abbiamo preferito fermarci. Per il rinnovo di Lautaro è fatta, vogliamo però dare l'ufficialità quando tornerà dalle ferie. Dunfriss rinnoverà? Spero e penso di sì, abbiamo confermato quasi totalmente l'organico dell'anno scorso, inserendo pedine importanti come Martinez, Zelischi e Taremi. Gudmundson, attenzione a questa, non è un'opinione, in questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri, in questo momento non fa al caso nostro. Beh, Marotta qui spezza una serie di interrogativi che comunque nel mondo dei tifosi interisti io immagino che ci fossero. Su Gudmundson, c'è un retrogusto su Gudmundson, che te lo spiegheranno adesso. Un retrogusto? Sì, allora, io credo che l'Inter non abbia bisogno in questo momento, quelle sono delle pedine... Esatto, a gennaio ci potrebbe essere un processo di questo ragazzo, quindi per la società Inter credo che non sia una bella... Ricordiamo, fosse ritenuto colpevole... Esatto, se fosse ritenuto colpevole... Esatto, non è necessario, per quanto riguarda Cabal l'ha spiegato, a un certo punto si sono fermati e quindi penso che magari prima della fine del campionato qualcuno lì a sinistra di Braccetto lo andrà a prendere, sono convinto di questo. Tipo chi? Io credo che prenderà Ermoso, non lo so, questa è una mia sensazione, magari mi sbaglio, ma un parametro zero con un esperien... Ermoso perché l'abbiamo letto però già questa sera al Napoli. Ma non lo so, non lo so ancora. Chi offre di più se lo porto a Cabal? Non lo so, non lo so, perché tanto è a zero, bisogna capire quello che gli dà. Però è un profilo di esperienza, per la Champions League, per quanto mi riguarda lo prenderei subito. E poi c'è il problema di Buccanan che starà fuori almeno fino a fine dell'anno. Certo, va bene, ma lì vai con Carlos Augusto a sostituire a sinistra, non c'è problema. Vedi come quinto, a centro, un braccino alto, non indietro. Ma va a Carlos Augusto, prenderà il posto suo, allora vai a prendere un braccetto di difesa. Però l'Inter ha il vantaggio di avere almeno uno o due mercati di vantaggio su tutti gli altri, no? Perché addirittura a febbraio aveva già fatto la squadra dell'anno dopo, rinforzando. Senza, fra parentesi, avere una proprietà sicura e con due cambi di proprietà. Anzi. Cioè, capisci? Ecco quello che io voglio dire. E non è che stiamo parlando della Luna, stiamo parlando di una società, di due società, che sono in linea d'aria a distanza di 500 metri. Come mai c'è questa, l'Inter pur avendo avuto molti più problemi e molto più gravi e molti meno soldi dell'Inter, riesce a essere in questa, del Milan, scusate. Perché c'è Marotta. Esatto. Quindi ci vuole un manager che abbia una certa, una certa esperienza. Tanto l'Inter è arrivata a questo momento, di questa squadra che comunque è forte e ogni anno si rinforza, attraverso cessioni dolorose. Hachimi, Lukaku prima, ogni anno andava via il migliore, no? Beh, Lukaku economicamente è stato un affare. 190 milioni. Sì, voi avete sbagliato soltanto col difensore quando vi siete fatti prendere in giro. Con Scrinia, certo. Un errore dell'ecchio presidente. 50 milioni li portavi a casa. 50 milioni. E comunque a gennaio ne portavi a casa 10, eh. Tanto che però lì, ma io non capisco come si sono fatti gabbare da questa situazione. Mi sembra strano che Marotta... Che lui è sparito, eh. Sì, sì, basta. Ne voleva troppi. Adesso c'è un interessamento del Napoli per Scrinia. Lo vuole Conte, lo voleva Conte. Allora, Riccardo, chiedo alla regia di mandare la nostra formazione, che è un po' il cardine, no? Poi di tutta quella che è stata la nostra discussione. La formazione di ogni scorda della nostra Serie A, Inter 3-5-2. Quindi non scopriamo niente di nuovo. In realtà, avendo detto già voi, no? Molto bene, l'Inter si è mossa anche già a gennaio. Due sono, anzi, tre sono i nomi che in questo momento leggiamo, no? Gudbonson, che però in questo momento è stato anche smentito da Marotta. E poi Vice Bastoni. Vice Bastoni e c'è da verificare, secondo me, la condizione di Acervi, che avrà un anno in più rispetto all'anno scorso e arriva da un'operazione abbastanza importante. Dunque, bisogna vedere le condizioni di Acervi, che comunque... Un Vice Acervi che potrebbe essere, in questo caso? Beh, De Vrij comunque... No, certo, per quest'anno... De Vrij però è differente, perché De Vrij è un forse più... Acervi te la tiene sigillata la difesa. Quello dell'anno scorso vi chiamano al... Bissek. Bissek, non è che ha fatto male. No, no, assolutamente, però come centrale, almeno che vuole provarlo e gli fa capire il meccanismo del centrale, o almeno che sposta bastoni in mezzo e giocherà con Bissek. Magari può fare questo, perché il Nazionale ha giocato... È vero che ha giocato a quattro, però... Ma Bissek ne ha imparato tutta la sera di Chiesa. Ma non serve all'Inter. Impossibile, ma... No, non è impossibile, è che non serve, se no veniva all'Inter. Sono convinto di questo. All'Inter non serve. Se no Marotta si era già buttato a capofitto, sono sconvinto di questo. No, ma poi all'Inter, come vedi, prendono già da un po' di tempo, scelgono sempre i giocatori che oltre ad essere di livello, non rappresentano un problema a livello personale. Anche la stessa vicenda di Gudbonsson, che è una vicenda, fra parentesi, che va ben oltre i confini del calcio. Come vedi, c'è anche una certa... Io non credo a certe cose, sono amici, eccetera. Non è il problema di essere amici, è che hanno, comunque, sono disciplinati e soprattutto sono seguiti anche molto, molto bene. Da quanto tempo non ci sono più dei casi, soprattutto dei casini? Beh, il numero uno in assoluto di questo secolo, purtroppo per lui, è stato Icardi, per tanti motivi. Però, come vedi, è tutto sempre molto... E, ti ripeto, in condizioni proprio societarie, perché solitamente si dice che la società è la cosa... Si parte dalla società, pur senza avere la società. E poi abbiamo visto anche, purtroppo, quale è stato il destino anche degli Zhang. E qui è successo tutto, ma in pratica non è successo niente, perché non ci sono stati contraccolpi per quanto la riguarda. Perché c'è sempre quel personaggio, che continuo a ripeterti, che risponde al nome di Beppe Marotta, che ha fatto tutto e lo fa bene. Riccardi è l'unica macchia nera degli ultimi anni dell'Inter. A parte che è un attaccante fortissimo, certo. Adesso in crisi, dalla separazione, per fare un po' di gossi. Dal punto di vista del comportamento, la moglie, la gente, eccetera. Però è eliminato subito, via. Fine anno, via. Ed erano forse la seconda stagione di Marotta, l'ha appena arrivato. Da lì in poi, l'Inter non ci sono stati più casi. Sì, infatti. Eccartanti. Da Spalletti. Sul nascere Spalletti. Lucacola l'anno scorso, ma vengo, no, non telefona più, via. Ok, rimane dove sei. Riccardo, se non c'è più la moglie di mezzo, o l'ex moglie a questo punto, come dice Vittoria, alla Juventus di Riccardi lo prenderei adesso. Sì, però adesso ha avuto anche un tracca al corpo. Ha perso 7 chili. In 7 giorni. Come può essere. Se lascia. No, è che il problema però, parlando non tanto degli affari privati, dei singoli, ma della società, è che è molto abile a gestire certe situazioni. E Conte, anche se per un periodo di tempo limitato, riesce comunque a compattare la società. Sono bastate due settimane e del Napoli dell'anno scorso non si è più parlato. Capisci? È vero, è vero. E la Juventus ha ritrovato, anche qui, sempre una compattezza, sempre un'unità di intenti, attraverso una campagna a questi che ha ridato fiducia a quello che è la vera Juventus. E anche loro, qualche mese fa, c'era la rivoluzione, anzi c'era una bagarre mai vista dopo quello che ha fatto Allegri e che ancora deve finire di scontare, mi sembra di capire. Allegri? Poi, Vittoria, stavo vedendo la formazione dell'Inter, no? Avete messo, eccola qua. Ah, ecco, tra l'altro, scusami, non l'abbiamo detto, per completare, Robert Renan, clausola recissora di 26 milioni di euro con una richiesta di 20. Servirebbe un investimento, ma si potrebbe provare una formula conveniente vista la situazione particolare del calcio russo in questo momento. Sì, sì, questo è da vedere, sai. Però stavo dicendo, vedendo la formazione, ho tolto il giocatore del Genova, io metterei Lautaro Taremi. Attenzione a Turemi, perché ultimamente non è che mi sia piaciuto molto. De con la nazionale. No, no, ma anche con l'Inter. Quindi metteresti Turemi come comunque riserva. No, io credo che Turemi abbia fatto, è vero il gol finale col Mila, un buon inizio campionato, perché nessuno si aspettava una cosa del genere. Non ha giocato esterno come giocava in Germania, ma ha giocato come punta centrale. Benissimo. Ma attenzione a Taremi, perché è un giocatore molto particolare e a fianco a Lautaro, secondo me, potrebbe fare uno straccello. Attenzione, attenzione. Sì, no, no, certo. In una stagione di 70 bar o tante partite. Però, è vero, però non sarei così convinto che partano Lautaro-Turam. Non sono tanto... Perché ho visto Taremi ha dei movimenti particolari e con un giocatore che li gira intorno come Lautaro potrebbe fare benissimo. Appoggi Riccardo, questo duo? Sì, sì, sì. Ma comunque l'abbondanza, quando c'è la qualità, fa sempre bene. Dunque l'Inter è in attacco tra i giocatori forti, deve completare, provare la quarta punta oppure deciderse di tenere Arnautovic, che comunque, voglio dire, tre minuti finali in Coppa Italia li può anche fare. Non so, però hai tante competizioni. Il resto l'Inter deve solo puntellare la squadra, deve solo sistemare alcune... La squadra è quella. La squadra è già fatta e se è rinforzata e anche di parecchio rispetto allo sbosto in attacco hai tre attaccanti forti, era uno sbosto di Sanchez e era il terzo attaccante. Quindi non vincete il campionato con 20 punti di vantaggio, ma con tretta. Correa, Correa andrà anche lui. Poi calcola che loro hanno un sacco di appuntamenti fra Coppe e... L'Inter farà almeno tante partite, più le nazionali, più i nazionali. Pensa un po'. E bisognerebbe allungare un po' la panchina anche se non c'è... Assolutamente. Io di punto ne prenderei cinque, pensa un po' come tutti gli impegni che hai. E poi comunque si vede che c'è una programmazione. E soprattutto in Zagli ha avuto magari qualche abbaglio come Correa o come quando lo Scudetto poi vinto al Milan. Dal Milan il problema è che ha gestito molto molto bene gli infortunati che praticamente li ha avuti ma non sono stati così gravi come altri e stiamo parlando ovviamente di problemi muscolari e anche di... Stavo vedendo la formazione. Cioè, lì non c'è neanche... Come si chiama? Come si chiama? Mi viene in mente il nome. Non l'abbiamo messo? Ti scrivi? Frattesi. Frattesi, mia. Cioè, Frattesi non c'è neanche lì. Frattesi, non c'è Aslani. Cioè, Aslani. Cioè, tutti i giocatori in più. Cioè, è proprio una squadra collaudata. Però hai detto potenzialmente l'Inter può giocare 80 partite. Quindi questi giocatori verranno utilizzati e non poco, sicuramente. Furio e fedele, sei pronunciato su ogni squadra che abbiamo analizzato e quindi non posso esimermi da chiederti questa Inter in chiave campionato e in chiave coppe dove può arrivare? Sicuramente insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto. Poi, onestamente, questa nuova versione della Champions League è tanto ricca quanto faticosa e impegnativa. Non riesco ancora a intuire quanto può incidere. Poi, attenzione, oltre alla Coppa Italia c'è la Supercoppa d'Italia. si gioca ancora con la solita formula e poi dopo c'è il mondiale per il club. Però forse sulla carta, proprio in questa ottica di stagione ricca di partite, di incontri e di impegni, l'Inter in questo momento credo che sia quella più fornita, più attrezzata. più attrezzata. Come anche seconda squadra intendo, no? Cioè, che quando parli di riserve parli però di signori giocatori. La rosa dell'Inter complessivamente è superiore anche numericamente e di qualità rispetto a quella del Napoli. Il Napoli però non deve giocare alle coppe. Il vantaggio... Sì, non si capisce mai perché anche la Juve senza Coppa non doveva fare chissà che cosa e poi dopo... E sia Allegri lo scorso anno che Conte adesso hanno detto non è detto che sia un vantaggio. Perché forse quando hai un impegno ravvicinato dietro l'altro per la tensione, per la carica, per tutto, per la concentrazione sei più probabilmente sul tezzo. Sì. Grazie.